per legge di affinità l'arca attraverso ettore cipollato a cura di roberto pi magister io vi ho detto che non basta uscire dal corpo per diventare angeli e geni o creature perfette e dicendo questo mi riferivo appunto a quelli che appena usciti dal corpo vanno a gravitare per legge di affinità in questa fascia di cui vi ho parlato ora se queste persone questi esseri sono rimasti ancora emozionalmente legati al mondo materiale e se essi possono estrinsecare i loro desideri e di loro pensieri ectoplasmaticamente è ovvio che la fascia in cui si trovano assuma caratteristiche che possono assomigliare molto a quelle del vostro mondo dalle caratteristiche certe volte di piena materialità domanda esiste in un libro di oliver lach che comunicò per lungo tempo col figlio morto in guerra un messaggio di questo figlio che parlando dell'altro mondo parla di strade parla di case parla di giardini parla di mare esiste veramente tutto questo nell'aldilà magister non esiste ma può esistere in conseguenza di una estrinsecazione mentale di un particolare ente o di un particolare gruppo di enti che si trova in una simile condizione emozionale ricordate che questo giustifica quanto vi dissi badate che ciascuno ha il suo inferno ciascuno il suo purgatorio ciascuno il suo paradiso badate che l'aldilà specialmente non appena uscirete dal corpo sarà quello che avrete costruito con le vostre emozioni sulla terra e tutto questo è perché voi abbiate chiara in un certo modo la visione di questo mondo immediato che segue subito il vostro questo si capisce per non parlare di quel mondo che chiamerei con termine un po esagerato abissale dove stanziano quelli che anche impropriamente chiamerei delle larve di negatività da dove possono giungere fatti impressionanti ed anche azioni che chiamerei malefiche